È arrivata la mia nuova apertura, scusatemi che non riesco a parlare perché sono molto emozionato, sono passati tutti i momenti bui, è arrivato la tempesta bene e buon tempo, è arrivato il buon tempo, che Dio mi benedica, voglio trasidere con me, perché mi voglio far vedere dove, cosa ho fatto, entro solo quattro settimane l'ho fatto questo e stiamo a posto a cento per cento, vieni, vieni, vieni qua qua dove vieni, è una concessionaria che entra oltre di 60 macchine, ho preparato tutte le macchine belle per voi, meno Clio, 500, bambe, sono 3,500X, 1, 2, 3, 3,500L, 500, bambe, e partiamo da un prezzo da lunedì mattina, un prezzo da 1000€ a salire sopra. E questa cosa mi ha fatto imparare tante cose belle nella mia vita, ho 46 anni, non ho mai visto questa malvagità verso di me, una gelosia, non lo so perché questo motivo, io mi sono ingreppato coppa a questa situazione, non ho fatto male mai a nessuno, mio padre mi ha imparato a essere uomo, mi ha imparato la fame, mi sono imparato se ho una cento euro in più, sono sempre lo stesso, ho sempre una persona, avevo 12 anni quando è morto mio padre, mi è rimasto niente, siamo, siamo, siamo stati quattro di noi, quattro figli, un mese fa ho passato l'inverno, però io benedico a Dio, a mia moglie, a miei figli che mi hanno aiutato, aprire una nuova concessionaria e voglio dirvi solo una cosa perché mi è entrata questa musca, i prezzi non saranno come prima ma si ribassano di più, qualcuno si è messo qualcosa in testa, si pensano che tu sei al cento per cento quindi si pensano che mi ha aumenti i prezzi? No, io ribassio ancora di più, abbiamo anche cambiato la posizione, andate su Google Maps Deposito Auto Fratelli Manna che ci troviamo a Calvizzano, lunedì mattina apriamo, il giorno 28 ottobre alle nove di mattina fino alle sette di sera, orario continuo Quindi domani già si inizia la guerra? Sì, e non ho potuto fare la curazione perché il tempo non permette, devo lavorare perché i soldini sono finiti Pure però chi non vuole acquistare un'auto può venire sempre qua? Sì Perché ti abbracciò? Sempre, anzi Che se andrà agli auguri? Mi rendo emozionato di questa cosa perché ho fatto tutto questo a terra, ci ho messo un mese Per finirla e ce l'ho fatta perché Dio mi ha aiutato che il tempo non è messo a piovere Ragazzi, vi aspetto tutti da lunedì mattina, il giorno 28 ottobre, partiamo le macchine da 1000 euro Ti voglio solo dedicare questa cosa a tutti perché ci mancava Ragazzi, ci troviamo a Calvizzano, via del Melo numero 6 Ragazzi, ci troviamo a Calvizzano, via del Melo numero 6